Torna l'ora legale in Italia nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo. Infatti le lancette dell'orologio saranno spostate avanti di un'ora. Giornate più lunghe con il sole che tarderà a tramontare di immediati effetti positivi su tutto l'ambiente. Infatti lo spostamento delle lancette di 60 minuti in avanti comporterà un notevole risparmio di energia grazie alla presenza di maggiore luce solare. Tuttavia qualche disagio potrebbe essere avvertito dagli italiani. Utilità e risparmio a parte resta il fatto che l'ora legale e la diminuzione del sonno che ne deriva può avere degli effetti spiacevoli sul benessere psicofisico. Questi piccoli disturbi, passeggeri, alterazioni del sonno, stanchezza e difficoltà di concentrazione, stress e irritabilità sono causati dalla differenza che si crea tra l'orologio biologico e l'orario esterno. Anche la perdita di una sola ora di sonno può alterare questi equilibri per qualche giorno e far sperimentare questi sintomi. In ogni caso gli effetti del ritorno all'ora legale saranno smaltiti entro pochi giorni e dopo sarà finalmente primavera per tutti.